and now get ready three two one ladies and gentlemen please welcome this is deep teacher show playing the best deep and soulful house music grooves from all over the world il deep teacher show continua dopo la prima sequenza mixata di questa sera in console lorenzo carbone le suona per voi lesson number two quere pon darle mi mano un pedacito de la historia negra de la historia nuestra caballero y dice si musica 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. , , , , , ,... ,... , , ,... 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 ... ,... ,... ,... ,... ,... ...,... Grazie a tutti. 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 a tutti.